Tonni molto accesi sabato mattina nella saletta dell'ACLI di Monestirolo, dove un folto gruppo di residenti ha incontrato il vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi e l'assessore alle politiche sociali Cristina Coletti. Sono i primi effetti della decisione da parte dell'amministrazione comunale di destinare parte dei nomadi del campo di via delle bonifiche in alcune abitazioni convenzionate con l'ASP della frazione di Ferrara. La decisione è caduta qui, dice Lodi, per questioni di sicurezza per queste persone e anche per le condizioni igienico-sanitarie difficili e insostenibili in cui versava l'insediamento, dice, oltre che per un risparmio di soldi pubblici da parte dell'amministrazione comunale. Per ora in alcuni appartamenti di Monestirolo si trovano quattro persone, due bambini e due anziani, alcuni di questi con disabilità, ai quali si aggiungeranno altre nove persone. Una situazione che si replicherà quasi analogamente anche a Masitorello. Si tratta di una situazione temporanea in via emergenziale e non paragonabile alle barricate che feci per gli immigrati, perché si tratta di cittadini italiani, non verranno con i camper e le roulotte, monitoreremo quotidianamente che non avvengano problemi e siamo a disposizione per discutere settimanalmente con una consulta di abitanti di Monestirolo. Questi in sintesi i contenuti dell'intervento del vice sindaco e assessore alla sicurezza Lodi, mentre l'assessore Coletti ha spiegato che si tratta di nuclei ragionati dal punto di vista sociale, a cui si starebbe dando una possibilità di integrazione, ricordando inoltre che si tratta di una situazione ereditata ed è solo un mese che la nuova amministrazione sta operando. Ma gli abitanti di Monestirolo non ci stanno e hanno accusato i rappresentanti della Giunta di non essere stati avvertiti. Era buona cosa se venivate due o tre giorni prima all'area informativa, è un po' buona, cioè un'etica. Siamo l'unico paese in tutto il comune, dimenticato da Dio, oltre a Marra, a collocarli nel centro di un paesino. Ci avete imposto questa gente e questo non ci piove, questi sono imposti. Queste sono solo alcune delle accuse da parte di alcuni residenti che hanno fatto dei riferimenti alle battaglie politiche di Lodi contro l'accoglienza degli immigrati nel Ferrarese e anche alle recenti elezioni comunali. Quindi anche io non lo dà, 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 non lo dà. Non lo dà, non lo dà, non lo dà, non lo dà, non lo dà. Uno dei residenti ha chiesto anche una contropartita visto lo sforzo di accogliere, ovvero più sicurezza e maggiore manutenzione delle strade del verde che ha detto degli abitanti di Monestirolo è molto carente.